Il nostro è uno stato che sta facendo più degli altri stati, certo ne ha più necessità e più urgenza, ma in molti paesi d'Europa si sottovaluta molto l'aggressività e la nuova tendenza a radicarsi delle organizzazioni mafiose. Direi che sono stati assestati dei colpi importanti a Cosa Nostra che era la più forte di tutte le organizzazioni, che l'Andrangheta continua a estendersi nel nord anche se deve fare i conti con una magistratura molto più attiva e intelligente della sua identità, la capisce finalmente, la capisce bene, mentre la Camorra ondeggia non essendo un'organizzazione unitaria tra momenti di forza e momenti di debolezza. Diciamo che sono preoccupato per la estensione dell'Andrangheta nel nord, molto, e per l'incapacità spesso dei giudici di capire di fronte a quale fenomeno si trovano. Sono incoraggiato per il fatto che il paese è molto più capace di difendersi rispetto a una volta e che la nostra legislazione, la nostra magistratura, le nostre forze di polizia sono sicuramente le prime al mondo. 35 anni fa l'atroce assassino di suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuele Assetti Carraro, dell'agente della scorta russo. Lei ha avuto modo durante questa ricorrenza dolorosa di affermare che Palermo è una città che ha compiuto dei passi avanti, è una città che sta cambiando, forse anche l'opinione pubblica insieme alle istituzioni sta comprendendo che è una piaga, è un cancro che deve essere debellato, quello delle mafie. Palermo ha subito dei traumi che non ha subito nessuna città d'Italia, che hanno segnato la sua storia profondamente, che hanno generato anche una volontà di resistenza e di risposta che erano assolutamente inaspettate. È come se avesse tirato fuori da sé qualcosa di prodigioso nei movimenti di educazione alla legalità, nella cultura civile che è molto più attenta, nella rivolta al pizzo. Ci sono stati dei fatti nuovi. Quello che ho visto io durante l'anniversario di mio padre è la trasformazione di una data di lutto in una grande festa popolare, la festa dell'onestà di Palermo è diventata e questo non avrei mai immaginato che potesse accadere. Qual è il modo più consono, il modo più giusto per tributare l'onore e il ricordo alle tante purtroppo vittime delle mafie da parte delle istituzioni? Di ricordarsi di essere istituzioni e quindi di mettere l'interesse dello Stato al di sopra di tutti gli interessi particolari. Questa è la grande elezione che ci è stata tramandata, questa è l'eredità che noi dobbiamo raccogliere, al di sopra dello Stato di diritto, al di sopra della Costituzione, delle leggi non c'è nulla. Spesso si polemizza attorno all'inerzia delle forze politiche rispetto al tema del contrasto delle organizzazioni criminali. Si doveva fare di più sul fronte della confisca dei beni. Lo abbiamo toccato con mano anche a Lecco con il Wall Street, l'ex quartier generale dell'Andrangheta confiscato e finalmente restituito dopo un iter complicato e complesso alla collettività. Si è fatto molto, ma si potrebbe fare molto di più sia nei tempi di assegnazione dei beni confiscati sia nell'aiuto a coloro che si assumono la responsabilità di trasformare questi beni confiscati in nuove imprese. Il caso di Lecco è paradigmatico perché per vent'anni qualcosa che poteva essere tranquillamente convertita alla legalità è rimasta bloccata. Non si trattava di una grande impresa per cui non ci fossero maestranze, manager, era una pizzeria da trasformare in un'altra pizzeria. Questo ha segnato davvero, ha indicato una certa acidia, una certa pigrizia o incapacità di comprendere l'importanza del problema da parte delle autorità. È uno dei temi, anche per la Lombardia, questo dei beni confiscati perché molte volte chi li riceve in assegnazione non sa neanche che si tratta di beni confiscati, non capisce il valore di quello che gli viene affidato. Lei è il presidente onorario dell'Associazione Libera e purtroppo Lecco piange la scomparsa prematura improvvisa del referente provinciale dell'Associazione Paolo Cereda. Proprio Paolo ha creduto fortemente nel progetto di recupero del Wall Street perché diventasse la pizzeria della legalità. Sì, e me lo ricordo bene perché ha trovato davanti a sé tante ostilità. Anche nel mondo dell'antimafia si è battuto con coerenza, cociutamente, idealisticamente anche perché questo progetto si realizzasse e se si è realizzato lo dobbiamo a lui. Io ho messo a disposizione anche l'Università di Milano perché potesse garantire delle attività di formazione in quella pizzeria. Non è stato semplice. È stato un grande regalo che Paolo ha fatto la sua città e che ha fatto la Lombardia, che ha fatto la causa del movimento per l'utilizzo alternativo dei beni confiscati. Un ultimo aspetto riguarda il libro che lei ha scritto dove, diciamo, dal punto di vista personale, intimo, racconta la storia della sua famiglia, in particolar modo la figura di suo padre, oltre il personaggio pubblico. Guardi, quel libro è stato scritto soprattutto da mia sorella Simona, che è mia sorella minore, che ne ha pienamente il merito. L'ha fatto con tenerezza, l'ha fatto con profondità. Io e Rita abbiamo semplicemente inserito dei pezzi personali che, certo, integrano, se vogliamo, un po' arricchiscono quel racconto che però si regge da solo ed è molto bello. Lì sono state le edizioni paoline, la San Paolo, a proporre a tutti i familiari delle quattro vittime di questi anniversari, Falcone e Borsellino del 25 anni, la Torre della Chiesa di 35 anni, di scrivere un libro sul proprio familiare. Simona si è presa per intero questo incarico, non si è affidata a un giornalista, ha scritto tutto lei e a me sembra che il libro sia obiettivamente molto bello. Dobbiamo essere fiduciosi che le nuove generazioni in particolare abbiano in sé il seme della speranza e anche della volontà di cambiare. Io in università vivo tra i giovani e vedo che sono abbastanza diversi da come li si racconta, che basta dare loro l'opportunità per formarsi degli esempi, per credere in valori importanti e dimostrano di saperci credere. Per questo sono fiducioso, sono meno fiducioso quando vedo che gli altri non hanno fiducia nei giovani.